Si torna a sparare a Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri sera i gnoti hanno messo a segno un agguato contro un uomo di 46 anni. La vittima è stata raggiunta da due colpi di fucile alle spalle e al torace, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in via Stretto 1, Fondaco Nuovo. Destinatario dell'agguato è Alessandro Genovese, detto Dentino, personaggio noto alle forze dell'ordine per essere stato coinvolto in passato in un'operazione antidroga. Genovese si trova ricoverato in prognosi riservata, anche se sarebbe cosciente, all'ospedale Cutroni Zoda di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stato trasportato subito dopo la sparatoria avvenuta intorno alle ore 19. Sembra che uno dei due proiettili gli abbia perforato un polmone. Sul luogo dell'agguato si sono recati i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno ricostruito la dinamica del grave fatto di sangue. I militari stanno lavorando intensamente assieme alla Procura della Repubblica della città del Longano per individuare chi ha sparato, probabilmente per uccidere. I carabinieri, diretti dal capitano Gian Carmine Carusone, mantengono per il momento il massimo riservo sull'indagini. Il sicario che ha sparato voleva probabilmente uccidere. Il killer ha infatti esploso diversi colpi di fucile a canne mozze da un'auto guidata da un complice, cercando di colpire gli organi vitale della vittima. Il 46 è stato trasportato, come detto, al pronto soccorso dell'ospedale Cutroni Zoda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L'uomo è stato sottoposto a diversi accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato la ritenzione di pallini di piombo in organi vitali, motivo per cui lo stesso è stato costantemente monitorato durante la notte, persistendo il pericolo di vita. La prognosi, naturalmente, resta riservata. In queste ore dovrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'estrazione dei pallini. La vittima, come detto, è un personaggio già noto alle forze dell'ordine, anche se per gli inquirenti non è un personaggio di grande espressore criminale. Di lui ha parlato anche un pentito di origine polacca, che nel 2007 lo indicava come esponente del gruppo di Fondaco Nuovo. Genovese, già condannato nell'ambito dell'operazione antidroga a Sant'Andrea, ha alle spalle alcuni precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.